Mentre il termine ultimo per il passaggio definitivo al digitale terrestre allunga nuovamente i tempi e come già ribadito in precedenti occasioni, Più Valli TV procede con l'opera di copertura del segnale che nei giorni scorsi dopo l'attivazione del segnale sul monte Cucco a Clusone ha interessato i comuni delle tre P, Parre, Premolo e Ponte Nossa. Su Ponte Nossa, su parte o quasi tutto Premolo e su parte di Parre, Più Valli TV è ricevibile da un ponte sul canale 64 che trasmette in digitale, un ponte che è partito un mesetto fa. In queste località la nostra emittente è visibile a condizione si disponga di un decoder o di un televisore predisposto per la ricezione del segnale. La digitalizzazione del sistema in Alta Val Seriana, come del resto in tutta la Lombardia, è stata spostata dal 15 settembre al 20 ottobre, si va invece dal 25 ottobre al 26 novembre, data ultima con cui si concluderanno le operazioni. Raccogliendo le solicitazioni di alcuni nostri telespettatori, ribadiamo che la visione dei nostri programmi è possibile soltanto se provvisti di apposita apparecchiatura.